a napoli direbbero a faccia rocaz direbbero a napoli mamma mia ragazzi ma di che cazzo stiamo parlando ma di che stiamo parlando ma di che stiamo parlando mamma mia il napoli fa 7 su 7 e vince anche a firenze e oggi ragazzi oggi questa questa è una vittoria che vale doppio perché al di là di tutto la fiorentina secondo me più e più volte per quello che aveva fatto nelle prime giornate per come aveva affrontato l'inter per come aveva affrontato la roma per come aveva affrontato tutte le prime sei giornate si era dimostrata una potenziale ammazza napoli delle squadre che finora avevano affrontato il napoli l'unica vera insidia era la juventus che però era arrivata abbastanza martoriata e oggi la fiorentina sulla carta poteva secondo me mettere in difficoltà questo napoli poteva secondo me strappare qualche punticino al napoli ed effettivamente lo ha fatto lo ha fatto vedere andando in vantaggio per 1 a 0 con il gol di martinez quarta però poi non è bastato e non è bastato perché quest'anno il napoli secondo me da quello che ho visto poi lo dico chiaramente c'era la roma quindi nel senso occhiata al napoli ma c'è poco da fare purtroppo il napoli gioca sempre in contemporanea con la roma sempre quindi è praticamente impossibile parlare di napoli in questo momento e parlarne in modo lucido da quello che vedo io oggi il napoli ma in questo periodo il napoli inizia a far paura cioè per il napoli non c'è più niente da ridere non c'è più niente da scherzare per il napoli non c'è più niente da dire è ma accadranno ora io penso che alla lunga magari il napoli con i problemi che avrà a gennaio perché è vero che a gennaio rientreranno tutti però anche è vero che perderà secondo me un calcio il calciatore più in forma che ha per reparto osimen davanti anguissà in mezzo al campo e culiba lì dietro per la coppa d'africa che anche la coppa d'africa ci si potrebbe aprire veramente un discorso gigantesco io capisco che gli africani devono fare la loro coppa e capisco capisco anche che in estate lì fa troppo caldo però non puoi non puoi toglierli dai campionati e lasciare le squadre senza i migliori giocatori anche perché secondo me c'è cioè poi ci rientra anche una svalutazione di giocatori africani perché poi io se devo investire magari tra un osimen e un calciatore di pari livello con osimen che però mi fa la coppa d'africa vado a investire su un altro calciatore è normale che sia così perché uno dei conti se li fa e poi bisogna anche calcolare che poi lo sappiamo lo vedremo poi lì lì avremo delle risposte importanti tra febbraio e marzo spalletti perde sempre tanti punti lo abbiamo visto a roma nelle due volte di roma l'abbiamo vista a milano con l'inter perché poi spalletti fa una preparazione atta a partire immediatamente in un modo sontuoso poi però insomma alla lunga alla lunga qualche punto lo perde ad oggi però c'è poco da dire io vi dico che nelle prime sette giornate ho visto una roma che ha perso due partite le ha vinte tutte le altre e siamo sotto il napoli di due partite perché il napoli in questo momento tiene il conto della tabellina del tre cioè in questo momento il napoli ha fatto sette partite sette vittorie 7 14 e 21 se dovessi chiedermi quanti punti sono stati sono stati messi a disposizione in questo momento in campionato la risposta sarebbe i punti del napoli il napoli li ha vinte tutte e non è una cosa da sottovalutare ora questo non vuol dire che il napoli vincerà lo scudetto ricordo quando la roma vinse le prime 10 con rudy garzia e poi insomma arrivò a meno 18 dalla juventus tipo questa è una cosa che può capitare e anche anche va detto che le altre big non è che siano partite poi così male nel senso alla fine la roma li è a meno 6 nonostante il napoli le abbia vinte tutte l'inter continua a correre e lo fa e voglio vedere anche i punti dell'inter in questo momento napoli 18 inter no questa non è aggiornata in nessun modo in maniera nel mondo napoli ne ha 21 l'inter ne ha 17 18 20 21 è comunque un meno 4 il milan se dovesse vincere questa sera andrebbe a 19 quindi sostanzialmente si potrebbe dire comunque che il napoli non è che sta scappando via però oggettivamente sta dando delle sta dando un'idea sta dando un'idea e questo lo dobbiamo ammettere senza troppi dubbi di quanto sia credibile quello che sta facendo in questo momento storico luciano spalletti e io ripeto 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 il gol di ramani oggi non è un caso il fatto che il racmani sia assolutamente responsabilizzato è perché spalletti ha detto manolas non siamo riusciti a piazzarlo mi dispiace mi dispiace tanto che manolas non siamo riusciti a piazzarlo ma non ce ne frega un cazzo perché manolas è finito a fare panchina e in questo momento vicino a questo culibali è impossibile togliere ramani in questo momento al di là di ogni calciatore che poi tornerà è impossibile togliere anguissà è un napoli che ha messo le basi per quello che costruirà che ha capito come muoversi che ha capito ciò che vuole fare da grande ed è un napoli che al momento è grande su questo secondo me c'è poco da dire c'è poco da fare oggi scusate oggi ha giocato lo zano ha assegnato lo zano cioè sta cosa ragazzi poi entrerà entrerà nelle idee di gioco del napoli il napoli non ha problemi sotto il punto di vista realizzativo perché spalletti questa cosa c'è là io ve lo dico sempre a me spalletti me sta qua iscrivetevi al canale se non l'avete fatto a me spalletti me sta qua ok qua mi strozza spalletti il problema qual è raga che è un signor allenatore ma sta cosa non la scopriamo di certo oggi luciano spalletti è un allenatore che ti manda in gol tutti lui fa di solito chi segna osimena chi segna insigne non è un problema oggi non segna ne osimena insigne non segna zielischi non segna fabiani oggi segna lo zano non è un problema avesse giocato politano probabilmente avrebbe segnato politano non è un problema ed è questa la forza maggiore secondo me di un napoli che in questo momento è incontenibile poi dall'altra parte diciamo ci sta comunque una fiorentina che è un'ottima squadra ci sta comunque una fiorentina che con vincenzo italiano ha trovato la quadra che perde contro tutte le big perché ha perso con roma con inter e con napoli ma che ha fatto vedere i sorci verdi a tutte quante ha fatto paura a tutte quante a me da romanista un po paura me l'ha fatta all'inter indubbiamente paura gliel'ha fatta al napoli quest'oggi andando in vantaggio paura gliel'ha fatta e non è una cosa da sottovalutare la fiorentina quest'anno secondo me fino alla fine lotterà per posizioni di vertice o comunque questo è quello che sta dimostrando di poter fare poi bisognerà capire perché i posti per l'europa sono sette di cui quattro per l'europa che conta due per l'europa league e una per la competizione del merta che è la conference però comunque le big oltre la fiorentina sono sette cioè in ordine sparso juve inter milan roma lazio e napoli e atalanta e poi c'è la fiorentina quindi oggettivamente la fiorentina deve fare un miracolo per piazzarsi sopra queste sette però con la costanza e magari approfittando di qualche squadra che non brilla di luce propria in questa stagione perché poi ci saranno quelle squadre che usciranno fuori e cominceranno a calare potrebbe strappare secondo me qualche punto interessante e potrebbe rubare qualche posizione a qualcuno su questa cosa fate attenzione anche perché la fiorentina è una squadra che in questo momento ha totalizzato appena tre punti sotto la roma e in questo momento attendendo poi stasera a più punti dell'atalanta ad esempio poi napoli è un ammazza tutti il napoli chiunque prende la distrugge la ara la spappola però però io vi parlo di ciò che vedo vi parlo di ciò che appare oggi appare un napoli secondo me distruttivo ed è un napoli che sinceramente un po paura se devo essere sincero un po paura mi fa ve l'ho detto per me arriva quarto il mio pronostico iniziale non posso stravolgere il mio pronostico dopo sette giornate lo scorso anno pronosticai il napoli il napoli quinto mi pare comunque fuori dalla champions e pronosticai il milan in champions pronosticai l'inter in champions pronosticai la juventus in champions e se non sbaglio l'atalanta in champions e tendi il mio pronostico fino alla fine e ha giovato io credo che questo napoli non possa non andare in champions però se può lottare per lo scudetto lo scopriremo solamente vivendo lo vedremo solamente di giornata in giornata fatto sta che oggi adesso è la squadra più forte più in forma della serie a questo si alla pausa i napoletani possono andarci felici fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto recuperatevi anche il video della roma che è uscito sul mio primo canale sequel iscrivetevi buosho all'allene come sempre ci vediamo ad un prossimo video